Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, torniamo a parlare dell'area ex lebole. Questa mattina c'è stato un piccolo incendio di sterpaglia, un fatto comunque non legato a quanto accaduto 24 ore prima e poi un sopralluogo esterno della Polizia Municipale. Ieri un episodio che ha visto finire una donna di 38 anni in ospedale con ustioni di secondo grado in tutto il corpo. Oggi un incendio. I due fatti che hanno riguardato entrambi l'area ex lebole al momento non sono collegati. L'incendio, domato subito dai vigili del fuoco, è accaduto intorno all'ora di pranzo e ha riguardato le sterpaglie che ormai da anni invadono l'ex area industriale. L'episodio della 38enne racconta invece di quanto questo luogo sia ormai diventato rifugio di chi vive ai margini della società. Questa mattina c'è stato anche un sopralluogo della Polizia Municipale di Arezzo al momento. Non ci sono novità. Le recinzioni sono ancora divelte in diversi punti. L'area, che oltre 30 anni fa ospitava la storica fabbrica Tessile Lebole, è di proprietà dell'imprenditore pistoiese Marco Carrara ed è stato al centro di un vivace scambio a mezzo stampa tra il sindaco di Arezzo e l'imprenditore. Il primo aveva sostenuto in consiglio comunale che ci fossero novità possibili investitori per la realizzazione di un centro commerciale e direzionale. Carrara aveva invece prontamente smentito parlando di promesse non mantenute e progetti che sono stati fatti naufragare in questi 22 anni di storia che a quanto pare è ben lontana ancora da una soluzione. Pestato a sangue per un asciugamano e uno zaino, un aretino si trova in ospedale dopo la rapina subita lo scorso lunedì lungo il sentiero della spiaggia libera di Vecchiano a Livorno. Insieme ad un amico è stato malmenato e rapinato. Alla fine i rapinatori hanno portato via uno zaino appunto contenente solo asciugamani e altri oggetti. L'aretino, 64enne, all'arrivo dei soccorsi era privo di sensi. Si è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Livorno dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Ieri invece lungo le strade della Valle d'Aosta ha perso la vita un motociclista a retino Marcello Orlandi, 68 anni, residente nella provincia di Arezzo, è morto mentre stava viaggiando lungo la strada per il colle del piccolo San Bernardo. La moto su cui si trovava è finita contro un'auto, un impatto che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Un furto nella notte, il bottino è stato magro ma ci sono stati dei danni importanti e soprattutto ci dicono i titolari di questo forno il danno. È anche morale. Un furto è un danno ingente ad un locale che si trova in pieno centro ad Arezzo. Siamo in Corso Italia, alla vigilia di Ferragosto. È successo dopo la mezzanotte, i ladri hanno forzato la porta d'ingresso, hanno cercato subito il denaro in cassa. Il bottino sarebbe piuttosto magro ma i danni ci sono. I malviventi hanno infatti danneggiato il frigo all'interno del locale e buttato a terra le bevande. Alla vigilia di un giorno festivo in cui l'attività era ovviamente aperta anche per la presenza dei tanti turisti, un gesto del genere, ci dicono i titolari, è più un danno morale che materiale. Che ti devo dire? Sto male e basta. Questo qui lo trovate? Basta così. Non ti posso parlare perché sono emozionata. Sto male. Sul posto è intervenuta la squadra volanti della questura di Arezzo e successivamente i rilievi sono stati effettuati dalla scientifica. Verranno visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza dei locali attigui. Il forno è in gestione agli attuali titolari da otto anni. È un'attività florida e ben integrata con il resto dei locali che si trovano nella parte più alta di Corso Italia, all'ombra della pieve di Santa Maria. Il forno si chiama appunto Antico Forno La Pieve. Questa è indubbiamente la parte della città più bella e frequentata dai turisti. Pochi passi e ci troviamo in Piazza Grande. Domani è il giorno di fai. Non fanno male le persone che lavorano, questo. Perché così fanno male le persone che lavorano. Si alzano la mattina e vanno la sera. Venire a trovare, questo non è bello. Oggi 14 agosto, una data che Genova, ma anche il territorio aretino, non potrà mai dimenticare. Era il 14 agosto del 2018, quando alle 11.36 venne giù quel gigante di cemento, il ponte Morandi, a Genova, portandosi via 43 vite, tra cui gli aretini Stella Boccia e Carlos Triuglio. I due giovani in quel giorno stavano percorrendo proprio il ponte Morandi a bordo della loro auto. Erano diretti al mare. Per loro non ci fu scampo. Oggi le celebrazioni ufficiali, per ricordare le 43 vittime alle 11.36, il momento esatto appunto in cui ci fu il crollo, è stato osservato un minuto di silenzio. E' intanto fissata per l'11 di settembre la ripresa del maxiprocesso che si è aperto in seguito alla tragedia. E torniamo a parlare dell'incendio che si è verificato ieri a Trigiano, nel comune di Castelfranco-Piandisco. Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di bonifica dell'incendio che ha interessato circa 9 ettari di terreno e di bosco. Hanno operato 25 squadre dell'antincendio boschivo, operai forestali dell'Unione dei Comuni del Prato Magno, oltre ai vigili del fuoco. Un lavoro davvero incessante, raccontato e noi lo facciamo insomma volentieri, anche con questa foto pubblicata da Flavio Sisi, che fa parte appunto delle squadre di antincendio boschivo. E l'Alba scrive, nell'incendio di Treggiano, abbiamo finito di bonificare alle 4, il grande lavoro fatto dalle squadre intervenute di giorno e siamo crollati. Insomma con questa foto ovviamente gli diciamo davvero grazie a lui, ma soprattutto a tutti gli operatori che hanno tenuto in sicurezza in questo caso le abitazioni circostanti con il loro intervento. Apriamo adesso una pagina dedicata al Ferragosto. Intanto con questo primo servizio siamo andati all'interno del pronto soccorso di Arezzo della centrale 118 per capire quali sono le casistiche che arrivano in questi giorni e che si sommano poi alle urgenze comunque di tutto l'anno. Sono tante le emergenze legate al periodo estivo ed in particolare anche alla giornata di Ferragosto per le quali il personale sanitario della centrale 118 di Arezzo è pronto a rispondere. È ovvio che il primo è quello legato all'esodo, quindi al traffico e alle nostre autostrade, treni eccetera che comunque attraversano la nostra provincia, la nostra ASL. Non fare utilizzo di alcol durante la guida, attenzione a quando si guida con il cellulare, i messaggini sono cose ormai note, stranote ma che comunque rimangono la causa degli incidenti. Un altro aspetto è quello legato alla traumatologia, diciamo così, d'avvanza. Porre attenzione sui bambini e sia per quanto riguarda l'utilizzo del seggiolino in auto sia per quanto riguarda il non distrarsi, purtroppo quest'anno abbiamo avuto tre casi di sommersione di piccoli. Da non sottovalutare in estate il colpo di calore e la disidratazione. Sicuramente la perdita di coscienza, il dolore toracico o comunque un dolore addominale particolare deve comunque fare un accesso o comunque farsi vedere da un sanitario che può essere anche la continuità territoriale, voglio dire, cioè sia la guardia medica che i medici di famiglia ci sono con il sostituto o meno, quindi perché no contattarli. È chiaro che se i sintomi sono banalmente ascrivibili a ho preso troppo sole oppure ho mangiato un po' troppo cerchiamo, stando all'ombra, idratandoci, di aspettare un attimo e uno può vedere se evitare l'accesso ma non si può dire a prescindere che non è mai niente. E allora proprio per evitare un accesso al pronto soccorso con i prossimi due servizi vi diamo dei consigli davvero importanti. Il primo con il disaster manager dell'Aslo Toscana Sud-Est per effettuare un'escursione in montagna in piena sicurezza. Il secondo invece siamo con la misericordia di Arezzo, consigli davvero importanti per chi deve affrontare un tuffo in piscina ma non solo ed evitare gli annegamenti. Per affrontare la montagna per chi fa trekking ma anche per chi fa semplici passeggiate ci sono delle regole da osservare. Una di queste è chiaramente fare il percorso o che sia trekking o che siano passeggiate adeguato alla propria forma fisica e alle proprie condizioni di salute. Un'altra regola è di ricordarsi che in montagna ci sono cambiamenti di clima improvvisi quindi possiamo partire con giornate di sole e a metà giornata esserci dei temporali improvvisi con abbassamento di temperature e diminuzione della visibilità. Non esporsi ai fulmini la prima cosa. Ricordiamo che un fulmine colpisce la cosa più alta che c'è in zona. Quindi se siamo un mezzo a un prato è chiaramente bene spostarsi ai bordi del prato, magari abbassarsi in modo da non essere un punto di riferimento. Se siamo all'interno di un bosco è vero che bisogna stare lontano dalle piante ma però siamo all'interno di un bosco quindi cercare degli avvallamenti, degli anfratti nel terreno, delle deflessioni che ci mettano in condizione di non essere il punto più alto in quella circostanza. Se troviamo delle grotte dove proteggersi o altro è bene di non stare sulla porta della grotta perché lì in questa posizione potremmo creare una specie di arco fotovoltaico quindi è bene spostarsi leggermente all'interno dell'anfratto stesso che sia una grotta o che sia un rifugio fatto di altro genere. Gli interventi più frequenti per questa tipologia del 118 sono la persona che si ferisce per un abbigliamento non adeguato, quindi scarpette che non sono adatte alla montagna e poi anche persone che si perdono nei sentieri. Infatti buona regola prima di partire per un'escursione o per una passeggiata è quella di portarsi innanzitutto sempre al seguito una mappa dei sentieri, studiare il percorso prima con il numero del sentiero. In caso di necessità, perché non è detto che se anche mettiamo in atto tutte le dovute precauzioni non ci siano degli infortuni, degli incidenti, è utile avere nel proprio smartphone l'applicazione per richiedere soccorso del 112. L'applicazione del 112, che è il numero unico per l'emergenza, se la chiamata viene fatta tramite questa applicazione, all'operatore che riceve la chiamata arriveranno le coordinate GPS di dove ci troviamo. E questo per noi è un grosso, non solo per noi, ma in questo caso diventa una gestione di più enti, quindi noi, i vigili del fuoco e il soccorso alpino, riusciremo a raggiungere meglio l'infortunato. Non è tanto l'acqua il pericolo o l'ambiente acquatico in generale il pericolo, anche se necessariamente viene considerato un ambiente ostile. I pericoli in realtà sono nel comportamento, nel famoso fattore umano. È partendo da qui che la Misericordia di Arezzo ha deciso di divulgare le informazioni più corrette possibile in tema di sicurezza in acqua. Lo ha fatto con un decalogo di semplici consigli. Gli incidenti in acqua solamente in Italia sono più di mille all'anno, 400 di questi sono mortali, tra le vittime principalmente minori. Diciamo che è la prima regola, la sorveglianza del minore con l'acqua è una sorveglianza, una responsabilità in vigilandi, si dice, cioè deve essere continuamente a vista e continuamente significa evitare assolutamente distrazioni anche temporanee come può essere quello di guardare il cellulare e non lasciare, soprattutto non lasciare punti di acqua incustoditi anche intorno a casa. Tra gli altri consigli della Misericordia, quello di valutare bene le proprie capacità natatorie, non trovarsi poi messoli in acqua, non forzare le proprie prestazioni, attendere dopo i pasti ed infine massima attenzione allo sbalzo termico. Soprattutto d'estate capita di essere accaldati al sole, in fase digestiva eccetera, in queste situazioni tuffarsi in acqua all'improvviso senza acclimatarsi progressivamente è pericoloso perché si può avere un malore particolare che si chiama sincope della idrocuzione. Infine, in caso di necessità, il consiglio è quello di non entrare in acqua bensì di fare una buona chiamata al 112. Che poi provvede immediatamente, già in base alla descrizione del fatto che l'incidente sta avvenendo in acqua, attiva tutta una serie di procedure, quindi non si perde un attimo in realtà nel descrivere quello che sta succedendo, perché il soccorso in acqua è pertinenza di figure professionali qualificate, che sono gli assistenti di salvamento. Statisticamente il rischio per chi soccorre in acqua è maggiore rispetto a chi viene soccorso. E sarà un ferragosto da tutto esaurito per le strutture ricettive della Toscana, in particolare per la Valdichiana e il Valdarno. Le prenotazioni fino ad oggi parlano chiaro, hotel, B&B, agriturismi e case, vacanze sono al completo, con una percentuale di occupazione che va dal 90 al 91%, soprattutto le vallate appunto si confermano le mete più ambite da parte dei turisti. A rivelarlo sono i dati censiti dalla Confesercenti che con l'avvicinarsi proprio del ferragosto stila un bilancio con i dati relativi appunto alle prenotazioni fino ad oggi pervenute. Spiegano dall'Associazione di Categoria il volume delle prenotazioni per il periodo 14-18 agosto, quindi 4 notti, fa emergere appunto un tasso di occupazione delle strutture ricettive sui portali online del 90%. E allora sia per i turisti ma anche per i residenti che non hanno lasciato in questa settimana di ferragosto il nostro territorio, vi segnaliamo due iniziative. La prima prende via proprio questa sera a Castiglion Fiorentino, parliamo del Vintage Festival che trasformerà appunto le strade della cittadina della Valdichiana fino al 18 di agosto in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per oltre 100 artisti, tra musicisti, disciochei e ballerini. Nel cuore dell'evento ci sarà anche un vintage market, come dicevamo si va avanti fino al 18 di agosto. Per coloro che invece amano l'arte e perché no anche le foreste casentinesi potete unire queste due passioni e visitare questo Vasari inedito a Camaldoli. 16 capolavori di Giorgio Vasari commissionati dal monastero di Camaldoli e sempre rimasti là dove erano stati pensati dal grande artista. Adesso in mostra grazie a Quiete e Rinascita. Quiete, che è una parola che Vasari nei suoi scritti, nelle vite, nelle ricordanze utilizza riferendosi a Camaldoli continuamente, è rinascita perché è una rinascita interiore ma al tempo stesso è cronologicamente una rinascita dell'arte italiana. L'allestimento fa parte di un progetto legato al 450esimo anniversario della morte dell'artista. L'itinerario segue il filo rosso delle opere vasariani in casentino. Perché far conoscere significa anche tutelare, nel senso che la bellezza non è soltanto per coloro che abitano alcuni luoghi, ma la bellezza è anche far capire lo sforzo, in qualche maniera anche il fatto che è pubblica la bellezza. Quindi ciò che è conservato in un monastero non è soltanto per coloro che vivono nel monastero ma anche per coloro che vengono in visita al monastero. L'artista arrivò a Camaldoli nel 1537 in una situazione esistenziale difficile. L'ancora di salvezza gli arrivò appunto dai monaci camaldolesi. Arrivò a Camaldoli quindi che era un apprendista artista, era quindi un pittore diciamo così ancora alle prime armi e uscirà da Camaldoli come un artista a tutto tondo, completamente rivalutato e con una serie infinita di commissioni. In mostra le opere custodite all'interno del monastero di Camaldoli ma anche alcune mai viste. All'interno della clasura monastica sono oggi custodite ad esempio le predelle che un tempo stavano sotto la deposizione di Cristo nell'altar maggiore e in questo caso invece di spostare le opere i visitatori verranno portati all'interno quindi del coro per poter ammirare queste piccole predelline. Tra i miei visti in particolare l'orazione nell'orto che per la prima volta in quattro secoli e mezzo lascia la sua collocazione originale nella clausura per poter essere ammirata da un pubblico più vasto all'interno della biblioteca dell'antica farmacia. Fatta fare per la cappella dell'infermeria ovviamente essendo soltanto per i monaci ancora oggi quella Cristo nell'orto degli olivi in preghiera non era visibile. E per la giornata di ferragosto ancora all'insegna dell'arte la Casa Museo di Van Bruschi sarà ad ingresso gratuito domani giovedì 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. dalle 11 alle 16 e 30 sono previste anche visite guidate volte a scoprire alcune delle opere appunto dei grandi maestri che tra la fine del 1400 e la fine del 1700 hanno rappresentato la Madonna con il bambino. Per una visita invece formato famiglia saranno disponibili gratuitamente le carte didattiche un mazzo di carte con cui viaggiare proprio tra le opere esposte della Casa Museo. Questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale noi vi lasciamo come tutte le sere di agosto ad una replica della nostra trasmissione fattore di storie di donne appunto quindi nel nostro salotto vi racconteremo una storia davvero interessante una trasmissione lo ricordiamo sempre in collaborazione con il pronto donna il centro antiviolenza di Arezzo. Grazie per l'ascolto e arrivederci.